La vittoria del campionato è ormai un ricordo, Mister Ventura si riparte con una nuova stagione, la prima storica in Serie A2, com'è la situazione in casa Fuzz al Bicelli? Beh buona direi, a parte quell'inconveniente di mercato che abbiamo cercato di tamponare con Simone Colaianni, penso bene, i ragazzi sono tutti quasi nuovi, abbiamo 5 giocatori nuovi quindi stiamo cercando di far amalgamare al meglio i nuovi con i vecchi. Su che cosa si punterà cambiando categoria? Beh si punterà dal punto di vista del gioco, c'è sicuramente qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso perché comunque nel campionato di Serie B si incontravano squadre che ti aspettavano lì nella loro metà campo anche dal punto di vista del punteggio, penso che la categoria di A2 è diversa, vedremo un gioco più aperto, squadre che verranno fisicamente preparate quindi verranno a pressare eccetera eccetera, quindi stiamo lavorando su questi concetti. Siamo una matricola, penso che è obbligo e doveroso visto non avendo una grossissima disponibilità economica, gli acquisti fatti sono stati fatti sempre seguendo un budget dove c'è la possibilità di poterli poi pagare tutti i calciatori, l'obiettivo essendo una matricola tutto nuovo entriamo in punta di piedi, cerchiamo come dire, dire la salvezza sarebbe la cosa basilare però ai ragazzi ho detto che non abbiamo un obiettivo di classifica, noi abbiamo un obiettivo di squadra, vogliamo cercare come squadra di crescere partito dopo partito, Comincia una nuova stagione per Nico Pedone con la fascia di capitano, cosa c'è da aspettarsi in questo futuro con la maglia del Biceglie? Sicuramente daremo il massimo come abbiamo dato lo scorso anno, sappiamo che questa è una nuova categoria per gran parte della squadra, è una categoria molto difficile però noi siamo pronti, stiamo lavorando bene per farci trovare pronti al 3 ottobre con la Salinis perché vogliamo fare un bel campionato. Come sta progredendo la situazione dei nuovi? Ci stiamo allenando sempre con la palla oltre a fare un lavoro fisico proprio per fare entrare subito nei meccanismi i nuovi acquisti, sono comunque buoni giocatori, sono convinto che faranno anche loro un ottimo campionato e ci danno una grossa mano. Quali le aspettative dal punto di vista personale? Io continuo sempre per la mia strada perché ho sempre voglia di migliorare e di fare bene, è una nuova categoria anche per me quindi dovrò dare più del 100% per dimostrare di essere all'altezza della situazione.